Consiglio comunale proficuo, quello di ieri a Barletta, nel corso del quale è stato approvato un provvedimento atteso da tempo dai residenti delle abitazioni in cooperative edilizie. Con 23 voti a favore, 11 della maggioranza, 12 delle opposizioni, il via libera alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del primo piano di zona 167 e parte del secondo piano. Nello specifico i cittadini autonomamente e senza alcun vincolo potranno decidere anche singolarmente di fare domande al comune per poter riscattare il diritto di proprietà. Soddisfatto il centro-destra, l'opposizione è che nell'accordo unanime dei presenti leggono ancora una volta la validità delle proprie proposte. Da tempo, sottolineo il capogruppo di Forza Italia, Dario Damiani, solicitavamo la discussione e la relativa approvazione della delibera in questione. I lavori consigliari sono poi proseguiti con l'approvazione dei due restanti punti all'ordine del giorno, quello dell'approvazione del regolamento del sistema di controlli interni e del regolamento di contabilità armonizzata, sui quali la Corte dei Conti aveva posto l'attenzione e aveva richiesto al comune di adeguarli alle nuove normative. Nel corso dell'assise poi un'importante notizia comunicata dal sindaco Pasquale Cascella, ovvero la conferma che la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco della BAT sarà realizzata a Barletta. Nel corso dell'assise, rispondendo a una domanda di attualità sui beni pubblici da mettere a disposizione per gli uffici tecnici della provincia, il sindaco ha riaffermato l'impegno per la valorizzazione di tutte le risorse del patrimonio immobiliare cittadino. In questo contesto è stato dato conto della comunicazione ufficiale ricevuta dalla Prefettura dell'approvazione con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del piano triennale degli investimenti, che comprende l'acquisto del terreno e degli immobili dell'ex macello comunale per la costruzione della sede del nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco della BAT, sulla base della conversione avvenuta lo scorso 27 febbraio del decreto legge che proroga alla fine del 2017 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti delle nuove province. Tra queste risorse sono appunto collocate quelle riguardanti l'acquisizione del bene comunale destinato alle nuove strutture territoriali. Il sindaco nell'occasione ha pubblicamente ringraziato quanti a tutti i livelli istituzionali, governo, regione, prefettura e comune, hanno contribuito a un obiettivo destinato a qualificare il ruolo della città a presidio della sicurezza del territorio.